Dopo il primo assaggio di ieri, gli eventi per celebrare i 200 anni dalla nascita dell'astronomo Lorenzo Respighi e il secolo di vita del liceo scientifico cittadino che porta il suo nome, sono proseguiti oggi con uno degli appuntamenti clou, la tavola rotonda a cui ha partecipato tra gli altri l'astronauta Paolo Nespoli che ha raccontato agli studenti delle scuole superiori tutti retroscena sulle missioni spaziali che in questi anni lo hanno visto coinvolto. Oltre a lui sono intervenuti il presidente dei giornalisti italiani scientifici Giovanni Caprara che ha parlato di Space Economy, Lina Tomasella dell'Osservatorio Astronomico di Asiago, lo scienziato Giovanni Benetti e il giovane divulgatore Adrian Fartade. Parliamo di spazio, di esplorazione astronomica che è la sfida di oggi, che è una sfida economica prima di tutto, ma anche una sfida scientifica, una sfida della conoscenza ed è l'inizio di un nuovo periodo nel quale ci troviamo a vivere e che aprirà delle grandi opportunità, speriamo anche non solo sul fronte culturale ma anche su quello economico, sul mondo del lavoro che è la sfida oggi soprattutto quando si parla di tecnologie avanzate. Domani dalle 14.45 alle 16.30 sempre a Palazzo Gotico è invece in programma la conferenza spettacolo Problema Globale a cura del fisico Federico Benuzzi, il cui focus è proprio sul riscaldamento globale.